Argomento, prendere in prestito del denaro. Eianna, come va oggi? Ciao John, sto bene, ma sono un po' stressata per le mie finanze. Oh no, cosa sta succedendo? Beh, ho avuto alcune spese impreviste questo mese e non ho abbastanza soldi per coprirle. Mi chiedevo se potessi prendere in prestito dei soldi da te. Capisco. Quanto hai bisogno di prendere in prestito? Speravo di prendere in prestito circa 1000 dollari, se va bene. Certo, posso prestarti i soldi. Ma prima di farlo, possiamo parlare delle tue finanze? Sì, certo. È importante assicurarsi di avere un piano solido in atto in modo da non dover fare affidamento sul prestito di denaro in futuro. Quindi iniziamo esaminando le tue entrate e le tue spese. Ok, suona bene. Qual è il tuo reddito mensile? Guadagno circa 3000 dollari al mese dopo le tasse. Ok, e quali sono le tue spese mensili? Il mio affitto è di 1200 dollari, il mio pagamento dell'auto è di 300 dollari e spendo circa 500 dollari in cibo e altre spese. Capisco. Quindi questo ti lascia con circa 1000 dollari di reddito disponibile ogni mese. Sì, esatto. Hai messo qualcuno di quei soldi nei risparmi? No, non proprio. Ho solo cercato di sbarcare il lunario. Capisco. Bene, lavoriamo su un budget che includa alcuni risparmi ogni mese. In questo modo, avrai un fondo di emergenza nel caso in cui si verifichino spese impreviste in futuro. È una buona idea. Ottimo. Quindi, diciamo che ti prestiamo 1000 dollari oggi. Quando pensi che sarai in grado di ripagarmi? Penso di poterti ripagare in un mese o due. Ok, funziona per me. E quanto pensi di potermi rimborsare ogni mese? Pensavo a circa 500 dollari al mese. È giusto. E se hai spese impreviste durante quel periodo, fammelo sapere e possiamo adattare il piano di conseguenza. Grazie mille, John. Apprezzo molto il tuo aiuto. Nessun problema, Anna. Ricorda solo di prendere il controllo delle tue finanze in futuro in modo da non dover fare affidamento sul prestito di denaro in futuro. E se hai bisogno di ulteriore aiuto o consigli, non esitare a contattarmi. Grazie, John. Prometto di prendere il controllo delle mie finanze ed evitare di fare affidamento sul prestito di denaro in futuro. Sono contento di sentirlo, Anna. È importante essere responsabili delle proprie finanze e pianificare gli imprevisti. Sono completamente d'accordo. E apprezzo molto il tuo aiuto e i tuoi consigli. Nessun problema, Anna. Ricorda solo di attenerti al piano di rimborso di cui abbiamo discusso e tenermi aggiornato se qualcosa cambia. Lo farò sicuramente. Grazie ancora, John. Sei la benvenuta, Anna. Fai attenzione e non esitare a contattarti se hai bisogno di qualcosa. Ehi Anna, ho notato che non hai ancora effettuato alcun pagamento sui soldi che hai preso in prestito da me. Cosa sta succedendo? Oh, mi dispiace, John. Ho avuto a che fare con alcune spese impreviste che sono emerse. Capisco, ma abbiamo fatto un piano di rimborso che hai accettato. Potete darmi un aggiornamento su quando sarete in grado di effettuare i pagamenti? In realtà, John, devo essere onesto con te. Ho finito per usare i soldi per qualcos'altro. Cosa intendi? Hai detto che avevi bisogno di soldi per spese impreviste. Lo so, e mi dispiace davvero. Avevo altre bollette che dovevo pagare e non avevo abbastanza soldi. Anna, sono davvero deluso. Abbiamo fatto un accordo e voi avete rotto quella fiducia usando i soldi per qualcos'altro. Lo so, e mi dispiace davvero. Non intendevo tradire la tua fiducia. Capisco che possano sorgere spese impreviste, ma è importante essere onesti e comunicare con me su eventuali modifiche al nostro accordo. La fiducia è una parte essenziale di qualsiasi relazione, comprese le amicizie. Capisco perfettamente, John. Mi sento terribile per aver infranto la tua fiducia. Ci vorrà del tempo per ricostruire quella fiducia, Anna. Ma voglio ancora aiutarti. Parliamo di un nuovo piano di rimborso che funzioni per entrambi e assicuriamoci di essere sulla stessa pagina andando avanti. Grazie, John. Apprezzo molto la tua disponibilità ad aiutarmi nonostante il mio errore. Certo, Anna. Tutti commettiamo errori, ma è importante imparare da loro e assumersi la responsabilità delle nostre azioni. Lavoriamo su un nuovo piano con cui entrambi ci sentiamo a nostro agio. Ok, suona bene. Prometto di essere più onesto e comunicare con voi in futuro. Questo è tutto ciò che posso chiedere, Anna. Andiamo avanti e lavoriamo insieme per rimetterti in carreggiata finanziariamente. Anna, apprezzo che tu sia onesta con me. Ma devo essere chiaro che sono deluso dal fatto che tu non abbia usato i soldi per lo scopo di cui abbiamo discusso. Capisco, John. E mi dispiace davvero per aver rotto la tua fiducia. Ho commesso un errore. Ok, apprezzo le tue scuse. È importante essere onesti e onesti l'uno con l'altro, soprattutto quando si tratta di questioni finanziarie. Sono completamente d'accordo, John. E prometto di essere più responsabile e trasparente in futuro. È bello sentirlo, Anna. Quindi, lavoriamo su un nuovo piano che tenga conto di ciò che è successo. Ok, suona bene. Sono disposto a fare tutto il necessario per sistemare le cose. Lo apprezzo, Anna. Troviamo un nuovo piano di rimborso che funzioni per entrambi e assicuriamoci di essere sulla stessa pagina andando avanti. Grazie, John. Apprezzo molto la tua comprensione e disponibilità ad aiutarmi nonostante il mio errore. Certo, Anna. Tutti commettiamo errori, ma è importante imparare da loro e andare avanti. Lavoriamo insieme per rimetterti in carreggiata finanziariamente. Anna, devo essere onesto con te. Sono deluso dal fatto che tu non abbia usato i soldi per lo scopo di cui abbiamo discusso. La fiducia è una parte essenziale di qualsiasi relazione, comprese le amicizie. Capisco, John. E mi dispiace davvero per aver rotto la tua fiducia. Ho commesso un errore. Capisco perfettamente, John. E prometto di essere più responsabile e trasparente in futuro. È bello sentirlo, Anna. È importante assumersi la responsabilità delle nostre azioni e imparare dai nostri errori. Voglio ancora aiutarvi, ma dobbiamo lavorare per ricostruire quella fiducia. Capisco, John. E apprezzo la tua disponibilità ad aiutarmi nonostante quello che è successo. Certo, Anna. Siamo amici e voglio sostenerti. Ma lavoriamo su un nuovo piano che tenga conto di ciò che è successo e assicuriamoci di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Grazie, John. Apprezzo molto la vostra comprensione e il vostro sostegno. John, voglio solo dire ancora una volta quanto mi dispiace per aver rotto la tua fiducia. Prometto di farcela e lavorare per ricostruire quella fiducia. Lo apprezzo, Anna. Non si tratta solo di soldi, si tratta della fiducia che abbiamo l'uno nell'altro. E sono disposto a lavorare con te per sistemare le cose. Grazie, John. Capisco che la fiducia è importante e prometto di essere più onesto e trasparente con voi in futuro. È bello sentirlo, Anna. E usiamolo come esperienza di apprendimento. Una comunicazione onesta e responsabile è fondamentale quando si tratta di prendere in prestito e prestare denaro, e dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni. Sono completamente d'accordo, John. E apprezzo il vostro sostegno e la vostra disponibilità ad aiutarmi nonostante quello che è successo. Sei la benvenuta, Anna. Siamo amici e voglio aiutarti. Lavoriamo su un nuovo piano che tenga conto di ciò che è successo e assicuriamoci di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Grazie, John. Apprezzo molto la vostra comprensione e il vostro sostegno. Andiamo avanti e lavoriamo per ricostruire quella fiducia. Anna, penso che abbiamo fatto buoni progressi nel ricostruire la nostra fiducia. Apprezzo la tua onestà e la tua volontà di sistemare le cose. Grazie, John. So di aver commesso un errore, ma sono contento che siamo stati in grado di superarlo e andare avanti. Anch'io, Anna. Questo incidente è servito come una lezione preziosa per entrambi. Abbiamo imparato l'importanza della comunicazione aperta e onesta, della responsabilità e della responsabilità in materia finanziaria. Assolutamente, John. E sono grato per il vostro sostegno e la vostra guida durante tutto questo processo. Certo, Anna. Tutti commettiamo errori, ma è importante imparare da loro e andare avanti. Sono qui per aiutarti in ogni modo possibile. Grazie, John. Apprezzo molto la tua amicizia e il tuo supporto. In qualsiasi momento, Anna, continuiamo a lavorare insieme e costruiamo una relazione più forte basata sulla fiducia e l'onestà. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.